Seconda tornata di interrogatori di garanzia questa mattina in Tribunale a Pescara nell'ambito dell'inchiesta denominata Grandi Eventi. Dinanzi al GIP Elio Bongrazio si sono presentati gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, difesi rispettivamente dagli avvocati Gianfranco Iadecole e Nicola Lotti e dall'avvocato Gianluca Pizzuti. Cuzzi ha risposto alle domande del GIP contestando l'impianto accusatorio della procura come ha spiegato all'uscita di Palazzo di Giustizia il suo legale Nicola Lotti. Comunque di spiegare la sua posizione e soprattutto la correttezza dell'iter amministrativo seguito in tutte le delibere che lo hanno visto come assessore proporre gli eventi alla giunta che poi li ha deliberati e ai funzionari dirigenti che hanno costruito come accade l'iter amministrativo delle delibere. Non ci siamo limitati a dire appunto che noi abbiamo comunque agito in continuità con quella che era il litere, il modus operandi della precedente amministrazione sin dal 1998 e poi in tutte le consigliature e le giunte successive e in quello che è anche l'iter, il modus operandi dell'attuale giunta e dell'attuale assessorata e dell'attuale consigliatura. Tutto qui. All'esito dell'interrogatorio avendo chiarito, avendo offerto appunto la nostra versione dei fatti e comunque ritenendo che non ci siano le diciamo le esigenze cautelari e comunque siano venute ulteriormente meno a seguito dell'interrogatorio di garanzia abbiamo chiesto la revoca. Le intercettazioni in effetti comunque non abbiamo avuto ovviamente modo di leggerle tutte, sono 13.000 pagine quindi chiaramente non sono state fornite delle risposte dettagliate e precise ma non sono neanche state fatte delle domande su questo, è stato più un discorso in generale sul litere delle delibere. Noi abbiamo, ci siamo limitati soltanto a rilevare come l'infungibilità della prestazione artistica e la particolare natura dell'oggetto di quelle delibere che sono nel capo di imputazione e che sono state assunte dalla giunta quando era assessore il dottor Cuzzi hanno fatto sì in passato e fanno sì nel presente e hanno fatto sì nei 5 anni di assessorato dell'assessore Cuzzi che non ci potesse essere una procedura comparativa o una messa a gara perché l'infungibilità appunto della prestazione artistica riconosciuta peraltro da una delibera del 2014 della Corte dei Conti Liguria che oggi viene citata anche nelle attuali delibere dell'aggiunta attualmente in carica fa sì che non sia richiesta, non sia necessaria, non sia anzi possibile una comparazione, un bando, una gara perché se l'oggetto è realizzare una rotatoria ovviamente io posso mettere a gara i tanti che possono fare questo bene fuggibile. Se io devo portare a Pescara Vasco Rossi perché per valutazioni politiche di opportunità promozionali, turistiche, con gli operatori, col sindaco, con l'aggiunta si è deciso di portare a Pescara Vasco Rossi per attrarre un certo tipo di giovani di utenza che possa venire a Pescara, Vasco Rossi lo può portare soltanto la multinazionale che ne ha l'esclusiva a livello nazionale e l'agenzia territoriale che quella multinazionale delega ad avere l'esclusiva territoriale per portare Vasco Rossi a Pescara. Si è invece avvalsa della facoltà di non rispondere Simona Di Carlo. Lunedì erano invece stati ascoltati Moreno Di Petrantonio, gli imprenditori Andrea Cipolla e Cristian Summa che accompagnati dai rispettivi legali si erano anche loro avvalsi della facoltà di non rispondere. Le accuse a vario titolo per gli indagati sono quelle di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illeciti finanziamenti elettorali e turbata libertà degli incanti.